Ma come sarebbero stati i film americani con le voci italiane? Ma volevo fossi mia, 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 come se... Non sentivo la voce in cuffia e... Ho pensato di divertirmi così. Che succede? Dov'è Salmo? Mia, 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 mia... Finchia. Ciao Blanco, ti cercavo per parlare un attimo di quella questione... Cazzo, i fiori! Guardi che ho visto tutto, non si preoccupi, posso testimoniare io contro quello. Chi? Lui! Non è un villaggio turistico. Aiuto, è arrivato! Ehi, Blanco, parlo con te. Muovilo così, ah. Sì, così, ah. Non sentivo la voce. Blanco! Dai ragazzi, coraggio, andiamo. Ci sarà un casino da pulire. Tanto, quando c'è da fare sti lavori, chiamano sempre me. Speriamo che almeno stavolta alzino la paga, eh. Oh, Anna, fai qualche foto, mi raccomando, così abbiamo le prove. Non ci credo. Blanco! Scusa Blanco, io volevo solo dare una pulita. Non mi sembrava il caso di lasciare tutta quella sporcizia. Non te la prendere, dai, per favore. Pensaci un attimo. In questo caso il video era a tema, e della fase iniziale avrei potuto fare varie versioni. Guarda la tua commedia, guarda. Guarda. Guarda la tua commedia. Ma come mi chiate il cazzo? C'è commedia, vattene, lasciami solo. Con o senza Sanremo io continuerò a chiedermi... Guarda.